Ciao amici miei. Benvenuti nel canale, se tu non sei iscritto al canale. Iscriviti al canale per non perderti nessuna novità della più grande squadra d'Italia. Il promettente attaccante uruguaiano Ciagio Borbas è considerato il nuovo Luis Suarez. A soli 21 anni, attualmente brilla con il Red Bull Bragantino, dove ha segnato impressionanti 10 gol nella scorsa stagione, consolidando la sua posizione come uno dei principali marcatori del club. Prima del suo arrivo al Bragantino, Borbas aveva già lasciato il segno nel panorama calcistico, con un impressionante totale di 19 gol in 36 partite con il River Plate dell'Uruguay nella sua ultima stagione lì. Attualmente, Borbas è ampiamente considerato uno dei giocatori più eccitanti del calcio sudamericano, e Cristiano Giuntoli sta pianificando strategie per portarlo alla Juventus, secondo le informazioni. La dirigenza bianconera vede Ciagio Borbas come una scommessa interessante nel caso in cui Vlaovic lasciasse la Juve l'anno prossimo. Diverse squadre stanno seguendo Borbas, con la Juventus che si sta unendo alla competizione per questa giovane promessa uruguaiana. Tifosi, condividete le vostre opinioni qui nei commenti, Ciagio Borbas sarebbe una buona scommessa per il futuro?